Tre notte minima all'Electro Sono Enrico Versus a Roma dal Tommy che è la serata resident del sabato all'Alibi e i nostri amici qui ci hanno chiamato per questa one-head spavolosa qui a Napoli come trovi questa struttura? straordinaria, un sound pazzesco io ho tutta la musica che mi entra dentro io in tanti anni di lavoro non avevo mai trovato una struttura con un sound così perforante la sera è andato molto in moito tutti quanti con il moito stasera un saluto a tutti gli ascoltatori di Night and Day ci troviamo al Paramì dove ad accoglierci c'è Sabatino buonasera buonasera a voi ciao questa serata è stata dedicata alla musica elettronica si, tutta musica house infatti ne facciamo una ogni 15 giorni ne abbiamo fatte questa è la seconda che facciamo quindi già ne abbiamo fatta una stasera abbiamo avuto 4 Cubis 4 DJ animazione io volevo dire quella che era la serata di stasera non faceva nient'altro che farci capire quella che è la bellezza delle tue serate quella che organizzi e quelle che saranno anche appunto prossime ogni 15 giorni noi facciamo una minimal che è basata tutta sull'house quindi i nostri amici a casa praticamente anche io appunto e Simona possiamo sfruttare qualsiasi tipo di giorno nel fine settimana per poter divertirci e poi c'è un'altra tipologia che tramite internet comunque io comunico oppure ci sono altri collaboratori che comunicano con i clienti del Parami possiamo fare delle serate proprio apposta per loro tranquillamente quindi a tema magari scelti da quelli che sono scelti direttamente dai nostri clienti al di là della musica al di là dell'animazione al di là di queste grandi serate il Parami funziona anche in maniera ottimale come ristorazione la prima cosa dobbiamo dire venite a vedere il locale come info abbiamo il 338 78 2746 081863 4315 e poi non dimentichiamo il sito del Parami che è www.paramidiscopub.it salutiamoli anche quelle che sono le tue collaborazioni con il PR sì allora abbiamo tanti collaboratori di PR non ti posso dire tutti quanti ne sono abbiamo Sabatino, Lello Pedone ce ne abbiamo più di un'altra UKS lo salutiamo UKS è uno dei nostri primi PR e poi ci abbiamo Amy Love che comunque pure al di fuori che è un DJ un nostro DJ visto che è bravissimo comunque salutiamo Night in Day a presto